La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Continuiamo con l'eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, digital strategy, cyber security and robotics. Il premio va a Sky Solution Group. Un applauso anche per Sky Solution Group. Leggiamo la motivazione mentre si apprestano a salire qui sul palco per essere una player influente dagli standard qualitativi elevati in grado di accompagnare i clienti in modo ottimale nell'innovazione di processo, assicurando loro crescita e contenimento dei costi. Per il livello di eccellenza raggiunto nell'integrazione di soluzioni avanzate e innovative, abbracciando con successo nuove sfide e frontiere della robotica. Complimenti a Sky Solution Group. Bravi, un bel applauso anche per loro, che si confermano un'eccellenza nell'ambito della cyber security e della robotica. Questa sera siamo in compagnia di Daniele Rossi, presidente e amministratore delegato della SSG, società che offre consulenza, soluzioni e servizi alle imprese che vogliono innovare i propri processi tecnologici. Dottor Rossi, ci descriverebbe le vostre strategie e la vostra mission aziendale. Beh, SSG già nel nome si capisce quali sono gli obiettivi a cui puntiamo e quindi ovviamente strategia innovativa, strategia di far crescere la società sia nel mercato italiano che nel mercato estero. Abbiamo di recente aperto una branch in Arabia Saudita, Riyadh, quindi ci stiamo anche espandendo in altri mercati e la nostra mission è quella di digitalizzare, portare tecnologie innovative, fruibili, al mercato sia italiano che estero. Dottor Rossi, in quali settori industriali siete maggiormente focalizzati e quali sono, secondo lei, i settori su cui puntare nel futuro? Sì, allora SSG opera su tre verticali. ICT, chiaramente tradizionale business dell'information technologies, quindi data center, big data, eccetera. E in digital, quindi tutta la parte di digital transformation, quindi di digital platform, a partire dalla firma digitale fino alla digitalizzazione dei documenti, quindi un processo importante che pensiamo porterà a grande innovazione e anche a grandi risultati sul mercato sia italiano che non. Per quanto riguarda la cyber security, l'intelligenza artificiale, ecco qui c'è da aprire un capitolo particolare. L'intelligenza artificiale sta divenendo un fattore predominante nel mercato. Si apre a scenari nuovi e noi ovviamente ci siamo attrezzati per innovare anche attraverso meccanismi e soluzioni di AI, rispettando ovviamente a pieno quelle che sono le regole normative, quindi l'AI-ACT, che è un regolamento europeo, ma cercando di capire il mercato cosa necessita. Quindi soluzioni che lavorino in ambiti settori, uno dei quali è fortemente centrato sulla nostra mission è proprio la telemedicina e teleassistenza, quindi un supporto valido per fare assistenza e accoglienza, telemedicina e teleassistenza nel mondo della sanità pubblica e privata, con nostra soluzione sviluppata interamente dal nostro laboratorio che si chiama Robox, con un nostro robot che effettivamente coagliva gli operatori sanitari e ogni tipo di supporto da un punto di vista privato e pubblico. Dopo aver parlato del presente, passiamo adesso al futuro. Quali obiettivi volete raggiungere nel medio e nel lungo termine e come vede il futuro della sua azienda? Sì, allora gli obiettivi sono, come dicevo, sono sfidanti e vertono tutti nell'innovazione e nel sviluppo di tecnologie e soluzioni che portino dei vantaggi al mercato, quindi ai clienti, che siano tecnologie di robotica o intelligenza artificiale o digital platform, comunque tutte tecnologie che mirano a risolvere problemi attuali nella gestione di semplici attività. Dicevo poco anzi che stiamo molto operando nella telemedicina e nella teleassistenza, quindi nel mercato sanitario e quindi il nostro obiettivo è quello di creare soluzioni sempre più customizzate e mirate, quindi che seguono un po' i trend del mercato. Il nostro futuro lo vediamo rosio, diciamo, adesso mi sbilancio un po', cerco di essere un po' positivo. Siamo fiduciosi che gli sforzi profusi da tutto il nostro team, quindi dallo sviluppo alla parte di servizi professionali, ruoli commerciali e lo staff, stiamo tutti lavorando e collaborando fortemente per centrare le nostre tecnologie proprio nel rispetto delle necessità del mercato. Quindi il futuro lo vediamo in crescita, stiamo già insomma vedendo degli ottimi risultati e diciamo che il mercato ci sta riconoscendo questo investimento, questo sforzo e questa volontà di innovare e migliorare i processi produttivi. Questa sera le è stato conferito la World of the Fonts per l'eccellenza e la leadership dimostrata in qualità di presidente e amministratore delegato. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Sicuramente è un riconoscimento ben accetto e che apprezziamo. È già la seconda volta che veniamo prevenuti in un evento di questo tipo, sempre per l'aspetto innovativo, quindi questo vuol dire che stiamo lavorando bene, andiamo nella direzione giusta e stiamo realmente innovando, quindi stiamo mettendo risorse, energie in settori che sono trainanti ma sono anche emergenti e sicuramente rappresentano un futuro per l'umanità. Poi stiamo anche attenti a regolamentare bene le nostre tecnologie, i nostri usi, quindi i processi, ma un premio come questo in questo momento dove stiamo investendo tanto in tempo e risorse è sicuramente un premio molto gradito che ci fa onore e risponde ai nostri impegni e obiettivi finali. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!